31 dicembre, tempo di bilanci ma anche di riscatto per qualcuno. Sicuramente è stato un finale di anno felice per la Virtus Francavilla che ha chiuso il 2021 con 33 punti in saccoccia e dei buoni proposti per il nuovo anno, pieno di obiettivi ambiziosi. Obiettivi che adesso non vede l'ora di raggiungere anche Chico Patierno. Il 31 dicembre del 2021 è la data che segna l'inizio di una nuova vita per l'attaccante che dopo la squalifica scalpita per tornare su quel prato verde che tanto ama e che tanto ha fatto sognare i tifosi di tutte le squadre che l'hanno potuto apprezzare. Non ho mai desiderato così tanto questo momento, questa data che rimarrà indelebile per tutta la vita, scrive Patierno sui social, la fine di un incubo e l'inizio di un nuovo percorso. Addio 31 agosto 2020. Già quel finale d'estate che ha sicuramente stravolto la vita di Patierno incastrandolo in un buco nero dal quale rischiava di non vedere più la luce. Patierno invece la luce era ritrovata anche grazie alla Virtus Francavilla che ha avuto la lungimiranza di mettere alle spalle tutto il passato e guardare insieme dritti al futuro. Un futuro nel quale l'attaccante Bitontino vuole lasciare il segno a suon di gol e perché no, scrivendo una pagina gloriosa in casa Virtus Francavilla.